E buongiorno a tutti ragazzi, ben ritornati su WarioWare Salve a tutti ragazzi, nello scorso episodio eravamo quasi arrivati alla fine Abbiamo fatto Orburo, ci abbiamo messo un bel po' di tempo e questa volta dobbiamo andare da Ashley Vediamo un po' cosa faremo quest'oggi, quale missione affronteremo, dove andremo Mmm, i problemi qui sono piuttosto evidenti Ok Ashley Ah ah, Ashley, avrei dovuto immaginarlo Oh, e pensare che cominciamo finalmente a divertirmi Ok Ashley Lo sopporto tutto ciò che è carino e tende a dimostrare emozioni Ama fare incantessimo e allora mangiare Ok Ashley lancia l'incantessimo nella direzione in cui è volta Cioè in pratica Kamek In pratica non cambia niente da Kamek E sembra abbastanza buona, molto molto buona Mi sembra molto buona Ok, si va a sterminare qualche bug E tu, tu ci aiuterai E perché dovrei E perché lo dico io e perché, beh, tanto non ci servi Mmm, certo che mi servo Ok, utilizziamo Ashley Allora, con Ashley direi di utilizzare Ehm, facciamo Mike E poi direi di utilizzare 18 volte Ehm, Orbulon Perché Orbulon mi sembra OP E, visto che abbiamo scoperto anche Ashley Mi sembra abbastanza OP come cosa Vediamo un po' come ce l'accaveremo con questo personaggio nuovo Quindi, mangiare di Ashley, ok Tipo, mangiare di villaggio, ok, c'è, 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 c'è C'è molto interessante Ok Oh no Ah ma mangiare, ho capito What? Questa succede? Ehm Ok C'è mai casa, scoppa, trasforma tutto quello che viene in cibo Ok Il dolce, ok, ok Ok, ci sta Amo a mangiare Boom Tutti amano a mangiare Ehm, ok, vai Ehm, davvero Mi sembra molto, molto semplice Ok, via Finisce tutto Ehm, sì, con Ormulon Ormulon è proprio OP come personaggio Ho sempre detto E un po', 18 volte Ehm, fallo uscire Ok, fatto Molto, molto, molto semplice Vediamo un po' con Ashley, nuovo personaggio Vediamo un po' Pareggia Ehm Ok Ok, sì, perché stavo togliendo Una noce Quindi l'aveva già calcolata Perfetto Allora, 18 volte Vediamo un po' Sbuccia Come? Come ho fatto? Nel senso opposto Vabbè Ma niente Mescola Ok Ah, mi sembrava colpirlo E non lo sapevo E che ne so io Cospargi Dai, dai, dai Sì Che chef era Che chef era Che chef è un comodoro Vabbè Opla Ho detto che OP e Ormulon Vinci sempre con Ormulon Vabbè L'ho tirata letteralmente a caso Comunque, bellissimo il piatto Così a caso C'è la dica Ok Ah, banana Ok, perfetto Una banana rossa Non ci sono una banana rossa Ma davvero Ma quando è sta cosa? Forse è molto Esotica Non lo sa Oh 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 Ok Vabbè Penso la stessa cosa Eeeh Cerco una candida Vabbè Sì Ci sta Oh Ok Molto semplice Non mi sono neanche mosso Vabbè Fa niente Osserva Ok Memory Questo è memory Ma è difficilissimo Difficilissimo Non so se è succo di pomodoro Comunque è vino Molto succo di pomodoro Secondo me Molto succo di pomodoro Questo è un boss Ok è un boss Uva Che questa sarebbe Devo Così Così devo fare Sprevi Non far te boccare il succo Ok Ah è così si esprime Ok Ok capito Quindi fai così Tac E basta compierlo così Ok Molto semplice Easy Ok Non so come non abbia Traboccato Però fa niente Dai Dai Ah il succo E' eccesso Lo devo far traboccare Perfetto Ora ho capito La questione Ok Aiuto Dai Dai Please No No Non andare a traboccare No Toi Sì Ok abbiamo vinto Ok abbiamo vinto Quindi non farò traboccare Per quanto riguarda le risorse Infatti voi non dovete sprecare le risorse a casa E anche io Lo faccio Quindi Ricordatevi Quando mangiate Mangiate tutto Oppure non mangiate niente Consiglio molto saggio E tanto Ashery Che cosa ci dici Elimili il bug col tattesimo Sì Ok Molto semplice Ok Ma Chi se ne importa Ok Ah scelgo Scegli la squadra Personaggio molto forte Forse lo sceglierò Tra I tanti personaggi Sicuramente molto di più Che cosa è Ehm Remix 2 Tipo dove abbiamo Incontrato Mike Remix 2 Va bene Ok incontriamo Quest'oggi Vediamo un po' Un altro carrello Il posto davanti è mio Uh Cosa c'è lì dentro Cosa c'è Allora Questa sensazione Lasciamo perdere Andiamo in un'altra strada Andiamo in un'altra strada Ehm Manda duplicata Lea come dire Delle esperienze Extracorporee Ecco Tua madre Delle mosse terrificanti E non c'è Di super problema Super cool Ok Bellissimo Poiché 9 volte Va fermato Va fermato Con i due personaggi Non ha consenso Questa cosa Dovrebbe proprio Si dovrebbe proprio Cantare Sopra i personaggi Fare Tutti gli incidati Possibili Maginari Comunque 5 volte Mama di 9 volte L'idola è morevole E gentile Quando perde le staffe Fa paura E un asso Dei videogiochi Ok Va bene 5 volte Si teletrasporta Nel suo punto In cui si trova Nel suo spiegato A un po' Dette scoppio di era Non può tuttavia Teletrasportarsi In alcuni luoghi Ok Mi sembra giusto Quindi tra i blocchi O comunque fuori dai blocchi Quindi basta fare così E Easy Ok Potete teletrasportare Raga Ah E poi Quando sta in aria Non può teletrasportarsi Ok Questa è molto importante Da sapere Dai Ok Ok Però E' super Come personaggio Purtroppo Si mette a dormire Subito Quindi dovremmo Comunque Saperlo gestire bene E velocemente Su avanti Non c'è tempo Da perdere Ok Quindi come ho detto Arbolan Ashley E Allora Mamma Quindi con figlio Easy Molto semplice 9 volte Mi farà sbagliare tutto Lo so già Non ve lo dite già Però So che comunque Ce la posso fare In qualche modo Pareggia Pareggia Come ho fatto a pareggiare Non ho fatto niente Vabbè Non l'ho ancora capito Forse Era nell'altra direzione Era nell'altra direzione Ho sbagliato io Ok Scaccia Pam Ho detto Ok Sopro qui Ok Avevo già trovato Il nostro terzetto Per vincere Opla Mamma mia Mamma mia Arbolan Mamma mia Che skill Costruisci Ok Tac E tac Non ho alcun senso Questa cosa Però Rimuovi No poverino La zambetta Che carino Che carino Ok Scoppio di ira Via 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 Non c'è Ha 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 Fab Chef Pomodoro Fala cadere Sì Sì Fala cadere Mi sopra giù Lecalecca Lecalecca Sì Lecalecca Mi ricordavo Mi ricordavo Se fosse a striscia O vero Spassa C'è Luvola In pratica Dovevo spostare Neanche col vetro Fai centrare Il bersaglio Ok Vabbè Mi sembrano sensati Come due Ma non ha alcun senso Questo mio di gioco L'oglio Dove Si è attaccato Per farlo Vabbè Poi tutte e due Le parti Non una parte Vabbè Ok Ce l'abbiamo fatta Per la prima volta E vai Ashley Patentissima Lancia Si Mi serve Una lancia Si Perché la scopa Avrebbe finito Con La scopa No vabbè Questa poi Questa poi Mi sa che Non lo dovevo fare Poverino Non ho fatto niente E Mi ha fatto sesso Sotto l'acqua Accendi Molto Easy Ok Scoppio di ira Dai Scoppio di ira Qua ti arrabbiato Qua ti arrabbiato Ok Di nuovo Perché È normale Questa cosa Perché Questa cosa Vabbè Vabbè Mi arrabbiamento Ok Beh Com'ora Mi sembra Comunque Più gestibile La questione Ah L'ho aggiunto Le api Che non Viene Far per me No Tento Asporto No No Dai Dai Non ci Credo Dai 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 Ok Dai Per favore Stati Fermo No No L'avevo One shot Questa Non me l'aspettavo Questa Non me l'aspettavo Però era il X2 Più difficile Effettivamente Ci sta Ci sta Dai Vediamo un po' Se riusciamo A battere Allora 3 2 1 Via Questa Me la sento Migliore Ok 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 Buona No No Ok Vai Sì No Sì Ok Buona Potevo uccidere L'apena Lo sapevo Ok No No Ma che Potevo saltarli sopra Ecco perché Perché avevi Mio giochi Ok Ok Dai 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 Veloce Veloce Sì Sì Vai Dai Vai Vai Ok Buona Buonissima Non so Qual è il senso Perché si sia mossa Però Fa niente È un gioco Molto da faticare Questo gioco Letteralmente Anche se Ci giocano i più piccoli Comunque È molto Molto difficile Ecco qua Bravo È buono È buono No 5 Perché è buona Ah perché è buona È quella Ok Quella col bug Non so perché Mi è venuto a buona Vabbè Mille monite tenute E si passa Avanti All'ultimo livello L'ultimo livello Questa ci aspetterà mai Wario vale tutto Con la cipolla Ok Va bene Quindi questo è il livello Di Wario Ok Ci siamo Questo è l'ultimo livello Che ho creato L'ho finito già L'ho finito già Oh no Quel livello di corruzione Altissimo Eccolo qua Il mega bug Oh Avete visto che roba Mamma mia Mamma mia Cos'è Cos'è È possessato Eh Sta prendendo Il controllo Del mio gioco Dobbiamo fermarlo A tutti i costi Molto bene Andiamo Però non sembrava Un bug Come gli altri Occhi aperti Ok Quindi 5 personaggi 5 volte Orbulon Ashley Soprattutto Wario E Mike Ho paura di questa decisione Soprattutto di Wario Wario è poco potente Però Diciamo È molto Comunque Che si può muovere Molto muovibile Quel personaggio Ok Aiuto 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 Perde fps Così Polvero Orbulon Io non capisco perché Mamma mia Mamma Eh Eh Ok Ora Non perdo più fps Forse Cosa è Che cosa è Come si è fatto A trasformare Wario È il vero Wario Ce l'abbiamo noi Ok Ok Eh Diamo inizio alle danze Wahoo Yippee Yahoo Dai Andiamo un po' A birra Eh Due Ok Easy Per un casco di banale Ma davvero Vabbè Vediamo un po' Apre il portone Opla All'altra Non è stato Ok Ho visto che Passa una chiave blu Il fatto è detto Qua ci si può muovere È strano Strano Ok Ok Eh Va bene Guardi Sch Schiva Ah ecco Perché ci si può muovere No 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 Ma Ma no Vabbè Fare cadere Easy Easy Wario Il David di Wario Formici Sesso carta formici Invece sempre il sasso Ricordate Perché Il sasso batte la carta E anche È giusto Sì Ok E batte anche La forbice Perché la può rompere Il sasso invece Non viene battuto da nessuno Quindi Devo farti perdere Ok Ci siamo Uh Buono Ah Lo mi hai preso Ci speravi Sul trasporto Boom Vai Devo fare l'effetto scenico A sorpresa Schiva No Cosa ho fatto Cosa ho fatto Sì infatti È un po' facile Sconfice Ah Ah Eh C'ho fatta Entra in casa Entra in casa Oui Oui Ce l'ho fatta Let's go Così sblocchiamo Nuovi livelli Al diamante No Ma non ho scelto niente Che poi l'altro ieri Ho fatto Il video di Era questo wario Ah Devo fare Soltanto vincere Avevo pure Orvula Ok ragazzi Non sto letteralmente Guardando niente È troppo veloce Non sto guardando niente L'ho detto È troppo Troppo veloce Vediamo un po' Se ci sono altri livelli Così almeno Li faccio tutti insieme E non Singularmente Da 15 Siamo arrivati Quindi Ce la faremo Solleva Ok Questo è nuovo Però Molto semplice Si sono la vita Non mi dite niente Sento sicuramente Perderò Però quali sono altri dettagli Ok Ok questa è nuova E Calzini di wario Che sembrano Piedi wario Vabbè Niente Ok questa La vinciamo Questa la vinciamo Regà Ok L'abbiamo capito Tutti E comunque Mi stanno Apparendo Livelli Proprio Azzeccati Al personaggio Quindi Dai Dai Ma non si può dire niente Qui Comunque Occhiali di wario Mi sembra giusto Mi sembra parecchio giusto Ok Sconfiggi Questa è difficile Questa era difficile Ok Questo era nuovo Questo Nella cavità Era nuovo E comunque Mi ricordo Di quando Avevo detto Di andare al diamante Che Che cosa ho fatto Manco l'ho visto Troppo avevo c'è Schiva Schiva No 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 Qua sono tutti Quattro di me Mamma mia Mi sto vicino a tutte Non sto a capire niente Comunque Per quanto riguarda I diamanti Due giorni fa Ho pubblicato Un video su minecraft Quindi Devevo vedere L'ho protetto Sì l'ho protetto Sono morto Ma l'ho protetto No Non ci credo Non ci credo Se ne potevo accorgere Non lo sapevo Questo non lo sapevo Boss fight Boss time Sì boss time Ok Buona No Questo l'ho già visto Buona no Tutte le cose no Vabbè Non deve distruggere Niente Credo Sì Infatti Con la marina L'ho distruggere Non l'ho distrutta Beh meglio così Al mio Maia Potentissima Buona Non fa praticamente Niente Ok Ok Perfetto Ci siamo No Dai Vai Perché non vai Perché non vai No No Il sistema L'ho trovata No Sì Le do La velocità Aumentata Ok Infatti si vede la velocità Subbola Bellissima sta cosa C'è un po' bella Ok Cattura Che cosa Che cosa devo catturare No No Ce ne fate C'è Vabbè Oh Ashley Sì Ashley Sì Ci sta Ashley Si può Muovere Mette un po' Mette un po' Come si fa Mette un po' Come si fa Dai Dai Veloce Ok Questa è buona Dai Veloce 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 Dai Dai Perdere il tempo Perdere il tempo Perdere il tempo Dai Pris Pris Vai Dai che ce la fai Va Buonissimo Ma dai No Non è possibile Ma davvero Dai No Non ce la fai Vediamo Maia Mi spinge pure al contrario Per accelerazione Ok Cioè A telegravitazione Mi spinge al contrario Non ho conoscere sta cosa Perché comunque Per fattumare Le leggi della gravità Però con le sue azioni Dettagli Non riesco a muovermi Si vince Mamma mia Ma che spinge al contrario Siamo Ma chi siamo Ma chi siamo Ok Abbiamo salvatore E Ascendendo sopra il water Si Si Non ve lo dire Dai Senta Ok Non riesco a più Si Si è liberato Eccolo Questo bug Distruggilo Dai Non c'è Prima Ma che distruggia ancora di più Che bello Non era più grande Ah Non era più grande Vabbè Ok Non hai scampo Easy Oh yes Sta tornando tutto come prima Perfetto Scusa E adesso Cosa ci facciamo con questo Cosa gigante Lasciamo qui E su Diccio Puzza Non ho messo tutto sotto sopra E' perfetto Per il mio livello Bli Bla Grazie Ok Vabbè Ci sta Che succede What Bellissima 5 volte Che si trasporta così Una stella Cappelli Bianchi Gli occhi di Wario Gli occhi Gli orecchi di Wario Sono il grande maestro Cioè Wario Con noi che vuole I fini del gioco Per così dire E in effetti Sono stato io Con dove qui Cosa Maestro Di che Questo è il mio gioco Qui comando io Sì Dopo la comparso del bug Non sappiamo cosa fare Così vi ho portato tutti qui Vi ringrazio di averli eliminati Ora potete ritornare Nel vostro modo Seguendo questa strada Uh Bello Portale interdimensionale Ah 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 E ora di alzare i tacchi A passo di danza Tornate pure a giocare Quando volete Ok Ma non l'avevo utilizzato Nel gbt Vabbè Ok Vieni da qui È in fretta Prima che ci venga in mente Quello che sto dimenticando Che cosa ha fatto Quindi Cosa ha fatto Siamo tornati Siamo tornati Ok Però mi chiedo Dove saranno spuntati Tutti quei bug Eh infatti Chi l'ha creato Ora che ci penso No No Oh no Sure Buonavissimo Ha creato i bug Sì Sì L'ha creato L'ha creato Per divertire Più il gioco E' Più schippabile Gricciabile Più bello Per gli speedrunner Invece No L'ha rovinato Peccato Peccato Quindi Tutti quei bug Questo è bellissimo Torna qui Che faccia tosta Aiuto Cattivo Mario Ok C'è sta Bacca qualcuno Tre per l'esattezza Ma what Chi sono Ah ok Il diavoletto di Ashley Il maestro di Cricket E l'altro Non so che cosa sia Ehi E va bene Lo spazio Tridimensionale Funziona ancora Ma chi è questo essere Questa è tutta un'altra storia Questa è tutta un'altra storia Cosa succede Oh novità Glito fine Ok Gran vanità Va bene No Si sta muovendo da solo Si sta muovendo da solo Perché Qua dentro Cosa sarebbe Ok Misto Perfetto Ma Credo che questa cosa La faremo in questo episodio Quindi Se vi è piaciuto questo episodio Direi di Mettere un like E Di iscrivervi al canale Ancora Se non l'avete ancora fatto E detto questo Lui ci vediamo Settimana prossima Con Credo L'ultimo episodio della serie O per l'ultimo Non lo so Quanto sarà lungo Quindi Grazie di avermi supportato Spero di vedervi Nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.